Sono sul sentiero del Monte Carduso, ho lasciato la cima e sto scendendo piano piano, vado a finire nella strada che va a Pian di Novello. Questi sono i massicci sassosi con delle pendenze del 70, 80, anche il 90%, sono delle pareti. Si intravede nello sfondo di là il paese di Pian di Novello. Eccola, Pian di Novello. Qua e là ci sono delle slarghe dei prati con delle abitazioni, escono dei tetti dal bosco, si vede che, si presuppone, si sa che ci sono degli insediamenti umani. Io qua sono su un sentieraccio, qui sotto di me, eccolo qua, c'è uno scosceso sassoso. Siamo tra cielo e terra. Riprendo il mio sentiero attraverso l'erba, eccolo qua, questo è un crinale. Come abbiamo visto dalla parte sinistra c'è il Pian di Novello, dalla parte destra c'è Cecchetto, Fontana Vaccaia, eccetera.